allora sono qua con google e voglio entrare nel mio fascicolo sanitario elettronico regione lombardia e dunque clicco qui vediamo se va cliccato ma non va madonna che lento mi sa che anche questo non è la volta buono ma caspita rina che lento entro con speed vabbè entra con speed posti di web code adesso prendo il telefonino posti di dove l'ho messo qui attivo via il caricabatterie autorizza con quello con il telefonino vado vicino col telefono con la telecamera ok l'ha preso ok vado controllo tuo smartphone ok a consenso ok regione lombardia lombardi country sì ma non va non fa neanche ancora ma caspita ma messo da panico incredibile non va assertion consumer service pubblici pubblici metadatta e d p c w r e p p e r e p o d e p o and c h s dot lombardia puntati punto i t e t publish mercedata assertion consumer service ma ora va ma mia ma dove c'è? ma dove c'è? ma cosa fa? idp wrapper.crs.lombardia.it e cosa faccio? ma che caspita, ma sono, va bene, chiudi vediamo se va, vabbè qui ho te, qui potrebbe andare, profilo impostazioni, eh non va, non va, sì ma dai, ma non puoi, sì ma non può fare così, lombardia, e poi andiamo qua, profilo impostazioni, lentissimo, sembra la morte, lentissimo, eh, va bene, rimane qua, ah vai alla pagina, sì giusto, devo andare a pagina dedicata, eh, va la pagina dedicata, la pagina dedicata è questa, un po', e comunque non va, eh, ma se sono messi male, ma se sono messi male, method not allowed, ma, 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 metro not allowed ma è una pagina dedicata e cioè ok dopo un po sono arrivato documenti attiva le notifiche ok modifiche cellulare va bene allora attivi attiva le notifiche per ricevere avvisi e aggiornamenti dei servizi per attivarle clicca sul pulsante modifica documenti referte mail ricette mail qui mi dice deleghe fs e no assistenza sanitaria no modifica attiva e disattiva le notifiche scegliendo salva ok documenti referti si ricette email deleghe viene modificata email il cittadino riceve una notifica ogni volta che una delega per l'accesso e mail assistenza il medico di medicina generale è bello questo inviti per visite di scrini si ok email mezzo tutte email cittadino riceve una notifica quando ci sono aggiornamenti sulla assistenza sanitaria istanze inviate rispetto ok questa dalla nuova magrofe regionale esprimo il consenso per l'attivazione del servizio via comunicazione di un interesse ok dunque le deleghe non c'era poi io dico dici assistenza sanitaria sì sì è sempre meglio avere l'email va bene salva vediamo se va più tardi ma io vi uccido vediamo se facendo così not allowed torno indietro salva email 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 salva torno indietro salva se l'ho fatta è incredibile caspita quanto perso 10 minuti di due secondi ce l'ho fatta torno al profilo vediamo speriamo torno al profilo dovrei averla fatta però torno al profilo non fa torno al profilo non fa torno al profilo non fa torno al profilo e perdo io lo rifaccio riesci comunque sembra che l'abbia modifiche registrate con successo un'avventura si è un'avventura dovete stare due provare continuare finché ce l'ho fatta come l'ho fatto io ce l'ho fatta vabbè esci no torno al profilo lui mi ha detto di sì va ma non vado sulla regione lombardia ma questi sono posto di media posto dare ci perdo esco esci esci cosa vuoi che faccia non posso fare nient'altro regione lombardia non ci entro lo log out va vabbè bocca al lupo